ciao a tutti e bentornati sul canale di safutobu eccoci di nuovo qui in compagnia di zippy the circle oggi completeremo l'avventura del nostro amico con gli ultimi livelli 11 12 e 13 è un altro titolo di breakthrough gaming disponibile sul playstation store a 99 centesimi iniziamo subito l'avventura ormai siamo in dirittura di arrivo quindi dobbiamo soltanto fuggire con i nostri amici in questo undicesimo livello non dovremo sforare il tempo limite di 400 su questa pista ghiacciata con la nostra pallina e questa diciamo è la prima parte un po più semplice la parte un po più complicata ci sarà tra tra poco dovremo fare dei dei gol diciamo con un'altra pallina ed è un pochino più difficile centrare diciamo il il bersaglio eccoci arrivati fine della prima parte adesso tocca la pallina per fare un gol nei quattro angoli della dell'arena ecco il primo ecco il secondo è un pochino più laborioso diciamo comunque basta premere triangolo nel caso per ripetere da capo abbiamo fatto il terzo gol adesso in alto a sinistra eccolo qua ce l'abbiamo fatta livello completato adesso otterremo alcuni trofei anche perché abbiamo ottenuto una medaglia per questo undicesimo livello proseguiamo in questo dodicesimo livello non dovremo sforare il limite dei 250 e sbloccare tutti i selettori che servono per uscire da da questi punti qua al momento l'uscita è bloccata dobbiamo trovare la leva la prima in basso qui a sinistra adesso si è aperto il passaggio ecco qui il prossimo punto da superare la leva è qui in alto a destra e adesso l'ultimo passaggio dovremo fuggire qui in alto e anche in questo caso la leva si trova in alto a destra ottimo siamo riusciti a fuggire in tempo da questo dodicesimo livello abbiamo ottenuto alcuni trofei e la medaglia nel tredicesimo e ultimo livello dovremo fuggire nel tempo limite di 150 il percorso è piuttosto lineare dobbiamo semplicemente saltare nei punti giusti in tempo ed eccoci arrivati all'uscita abbiamo completato il tredicesimo livello in tempo abbiamo ottenuto la medaglia quindi a questo punto si sbloccheranno gli ultimi trofei incluso anche il platino io mi fermo qui ragazzi con questo video spero che vi sia piaciuto vi lascio al finale della storia e ci vediamo con il prossimo video sul canale di safutobu ciao a tutti 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 ciao a tutti